No, un pareggio ci stava, ci stava e ci teneva stretto questo punto, però peccato che non è andato così, però la prestazione c'è stata, questo deve essere lo spirito che ci deve guidare da qui fino alla fine, però anche l'ultimo, l'occasione di Pinamonti se andava dentro, mi sa che ci meritava manco un punto, però peccato, quindi la prestazione c'è stata, c'è stata, quindi dobbiamo tenere stretto la prestazione e guardare avanti. No, dal campo sembrava il rigore, però io ancora non ho avuto l'immagine, quindi se il VAR dice che non è il rigore vuol dire che non è il rigore, però quindi c'è da dimenticare subito questo quando c'è niente da lamentare o da pensarci, dobbiamo solo pensare di continuare a lavorare così, dobbiamo pensare subito alla prossima partita che sarà ancora più importante. I punti sono vicini, sono vicini, quindi siamo ancora vivi, noi dobbiamo solo pensare partita dopo partita, poi alla fine vediamo.